In questo video voglio parlarvi di alcuni ritratti dell'imperatore Augusto molto celebri. Allora vi dicevo che parliamo di ritrattistica pubblica e propagandistica e l'imperatore Augusto in particolare verrà rappresentato, il primo che aveva assunto proprio il titolo di Augusto, verrà rappresentato molto spesso in forma idealizzata appunto per enfatizzare la sua discendenza quasi divina, il suo essere un personaggio quasi da identificare come una vera e propria divinità. Lo vediamo in tutte le immagini che ho scelto, che ho inserito, vedete come sempre la doppia coda di rondine dell'acconciatura che ci permette di identificarlo nonostante appunto i suoi tratti siano assolutamente come dire resi uniformi e poco distinguibili, poco caratteristici. Lo vedete di nuovo con appunto la corona di alloro in testa, di nuovo appunto queste fattezze perfette. Ma la statua su cui volevo farvi lavorare un po' di più per partire è il cosiddetto Augusto di Prima Porta. L'Augusto di Prima Porta è una statua che si fa risalire circa al 19 avanti Cristo ed è stata rinvenuta nella villa di Livia che era la moglie dell'imperatore Augusto a Prima Porta sulla via Flaminia motivo per cui appunto si chiama di Prima Porta la statua. Abbiamo visto prima dei volti, ecco in questo caso invece vi presento forse per la prima volta appunto una statua un ritratto a figura intera e quindi capiamo molto meglio quando vi dicevo il riferimento all'arte greca anche perché in questo caso davvero si torna anche alla serietà della proposizione di un personaggio in tutta la sua fisicità con evidentemente anche la parte di proporzione rispettata. In questo caso quindi abbiamo la figura stante, eretta e stante di Augusto intento però a alzare il suo braccio destro e rivolgersi quindi a qualcuno, a un pubblico davanti a lui. In particolare il pubblico a cui si rivolge sarà un pubblico militare perché voi vedete che Augusto viene rappresentato non nudo per nostra fortuna ma perché appunto abbiamo notato in altri video, appunto facevo notare appunto che spesso la ritrattistica anche se idealizzata risulta quasi ridicola quando ci presenta il singolo personaggio come ritratto proposto nudo in riferimento, capite ancora meglio perché le statue greche erano spesso anonimi, erano personaggi idealizzati, erano stati di atleti, erano stati di divinità non erano il singolo personaggio ma il nostro Augusto vi dicevo viene rappresentato con addosso una tunica militare corta e in particolare la parte alta era un rivestimento, un'armatura in cuoio si chiamava lorica, un'unica parola lorica da cui si dice anche che la statua è loricata cioè appunto che il personaggio indossa questa armatura in cuoio ovviamente è scolpito in marmo quindi però è un'armatura che se voi vedete ci permette di far trasparire l'anatomia quindi anche se il personaggio è vestito in realtà traspare la perfezione anatomica del suo corpo quasi come se fosse davvero un atleta o una divinità greca cosa che invece in tutti gli altri tratti che abbiamo visto fino a questo momento era assolutamente lasciato in secondo piano anzi non era proprio evidente, il corpo non compariva addirittura se non nel togato barberini che abbiamo visto ma dicevamo quindi questo personaggio si sta evidentemente rivolgendo alle sue truppe, ai suoi soldati perché appunto alza la mano quasi per chiedere l'attenzione un dito alzato è di colui che sta compiendo un discorso che si sta rivolgendo ai suoi fedeli soldati evidentemente chissà per celebrare la fine di una battaglia, una vittoria il nostro imperatore viene quindi glorificato, ricordato in forma pubblica e propagandistica a capo dell'esercito quindi è Augusto colui che conquista i territori a suon di guerre per intenderci vi farei notare a questo punto che la manifattura dell'opera è davvero assimilabile a quella dei greci nel senso che davvero viene resa la perfezione proporzionale ma soprattutto guardate la postura del personaggio la postura ci può ricordare intanto appunto sì la postura ci può ricordare quella dell'arringatore etrusco anche se l'arringatore vestiva una toga quindi una tunica civile come dire un abito civile e abbiamo detto che aveva dei tratti assolutamente realistici e non idealizzati ma ci può ricordare l'arringatore se non altro per la mano alzata per il gesto interlocutorio nei confronti del pubblico che in questo caso siamo noi ma invece per quanto riguarda la postura vera e propria io qui vi ho inserito niente meno che il doriforo di Policleto perché voi vedete che appunto viene riproposta la figura del chiasmo sappiamo che il chiasmo è costituito da questa contrapposizione il chiasmo da cui deriva poi il contrapposto l'equilibrio perfetto la ponderazione sappiamo che il chiasmo appunto prevedeva la contrapposizione tra un arto dritto e il lavoro come dire e un arto invece piegato e a riposo e all'arto dritto corrisponde a X in modo incrociato il braccio piegato se quindi la gamba è piegata e quindi a riposo corrisponde il braccio dritto e riguardiamo allora il nostro navegatore e scusate il nostro Augusto di prima porta vedete che appunto abbiamo la gamba che noi vediamo a sinistra è dritta ed è quella portante alla quale corrisponde a X il braccio piegato su cui è appoggiato il mantello mentre invece il braccio che noi vediamo a sinistra è alzato e dritto e corrisponde alla gamba piegata quella disarticolata quella che non è portante in questo senso davvero secondo il chiasmo quindi davvero una ripresa di un linguaggio che era quello della perfezione classica quindi riferirsi alla Grecia ma la Grecia classica per intenderci c'è un altro elemento che vorrei farvi notare il nostro Augusto è a piedi nudi e questo non è normale per un soldato ma evidentemente questa sua essere scalzo ce lo riporta ancora di più vicino a una figura come quella del Doriforo ma forse vuole anche accentuare l'origine quasi divina dello stesso Augusto perché vedete che ai suoi piedi cavalcando un delfino ho messo solo questa vista quindi non si vede molto meglio c'è un piccolo Cupido e voi sapete che Cupido era figlio di Venere Eros figlio di Venere quindi Augusto voleva in qualche modo ancora di più accentuare la sua origine divina andando a rifarsi indirettamente alla sua discendenza dalla stirpe di Enea niente meno quel fondatore di Roma e quindi siccome Enea sarebbe stato figlio di Venere come dire che lui poteva vantare una parentela con Cupido quindi di nuovo comunque una figura mitologica accostata alla figura di un ritratto ci riporta indietro nel tempo ci riporta alla Grecia ci riporta al momento in cui appunto gli dei potevano essere rappresentati con tutti i loro attributi con tutti i loro no le vicende che avevano visti i protagonisti a questo punto vediamo se ingrandendo riesco un po' a non far perdere troppo la qualità la lorica è decorata con delle decorazioni che vogliono evidentemente glorificare il ruolo mantengo così mi piace di più il ruolo del nostro augusto imperatore ma a capo dell'esercito perché la lorica ci presenta la personificazione del cielo nella parte alta nella parte bassa la personificazione della terra come dire che il nostro è protetto dalle divinità che governano un po' ovunque e nella parte centrale viene rappresentata una scena in cui c'è il re dei parti che restituisce a un generale romano le insegne che erano state strappate a crasso nel 53 avanti cristo durante la battaglia di carre quindi un momento in cui in precedenza i romani avevano perso la loro autonomia queste insegne erano state strappate dalle loro mani ecco il re dei parti sconfitto da augusto quindi la celebrazione di questa vittoria che vi dicevo prima restituisce le insegne quindi restituisce il simbolo di questa libertà ai lati troviamo delle due figure che rappresentano l'impero e poi c'è una sorta di generale questo paesaggio cosmico con al centro il carro solare di Apollo e quello di Aurora ai lati quindi davvero una rappresentazione mitologica che ci riporta alla gloria della Grecia classica come dire vediamo se mi ho detto tutto di spero di sì vi faccio notare la qualità del panneggio anche in questo caso del manto guardate il modo in cui ricade verso il basso con grandissima eleganza un panneggio anche in questo senso classico quindi l'idealizzazione si rifà allo stile ve l'ho detto 50 volte ma spero sia chiaro si rifà allo stile classico della Grecia antica guardate la differenza anche nel panneggio da un arringatore ma certo stiamo parlando di momenti storici molto diversi e soprattutto finalità molto diverse a questo punto concluderei il lavoro sulla riflettistica romana mostrandovi seppur in velocità la statua di Augusto ancora lui rappresentato in veste di Pontifex Maximum il Pontefice Massimo noi sappiamo che la carica di Pontefice era quello che aveva a che fare con la massima carica religiosa stiamo parlando di religione pagana ovviamente all'epoca romana ma che era partita come carica da quando era stato voluto voluta la costruzione del pon sublicius che ricorderete il primo ponte ligno che collegava le sponde del Tevere all'isola Tiberina e quindi questa carica era stata assunta via via da tantissimi personaggi e dall'epoca degli imperatori l'imperatore diventerà il Pontefice Massimo il responsabile della costruzione di questi ponti come colui il responsabile delle opere pubbliche quindi prima avevamo un Augusto rappresentato come Augusto a capo del mondo militare e qui abbiamo invece un Augusto che indossa la toga e quindi rappresentante del mondo civile l'abito civico cittadino per eccellenza ma vedete che ha anche la toga sollevata sulla testa quindi a rappresentare proprio il momento rituale quello appunto della carica del Pontefice Massimo vi farei notare a questo punto soltanto un altro elemento il solito doppia coda di rondine nella concettura che ci permette di identificare il personaggio perché altrimenti davvero è molto neutro come volto idealizzato ma guardate in questo caso invece la ricchezza della manifattura la bellezza del panneggio la morbidezza di questi passaggi graduati chiaroscurali di questo panneggio molto raffinato vi ho messo per un confronto impietoso di nuovo il togato Barberini ecco a questo punto capite cosa intendo quando parlo di qualità nel senso che qui vedete che la rappresentazione del panneggio è molto più schematica lasciamo perdere le proporzioni qui invece vedete che c'è una ricerca ancora una volta che si rifà alla classicità grazie a tutti